Musica Musica Che crea l'esplosione? La L'Edo La L'Edo La Mala Ibiado La Mala Ibiado La L'Edo 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 bravo Daniel bravo 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 Sto spiegando a Matteo, è chiusa questa, mi faccio pure l'apertura, se tu senti avversario, se la apro, mi faccio pure l'apertura, se la apro, mi faccio pure l'apertura, bravo, eccola qua, bravo, eccola qua, bravo, Stiego, è luogo, stiego, è luogo, vai, caccia il gamba, caccia il gamba, caccia il gamba, ok, ok, adesso la giuno, orientate la giuno, ok, Sì, la devo spostare, la devo spostare, devo far con l'avversario, sì, la sposti di più, non deve rimanere in casa, devo spostare, immagina l'avversario, la devo chiudere, la devo chiudere, Cerco qua, va bene, va bene, Ricci, hai capito o no? E' aperta, Ricci! Ecco, questo è! Questo lo faccio fuori! Bravo, bello Gianni! Bravo, bello! Va bene, non mi interessa che si sbagli! Ecco, c'è! Sposta di più! Sposta di più! Sposta di più! Va bene sul ginocchio! Fai la rotazione! Diamo la rotazione! Extra, extra rotazione! Gamba tesa! Gamba tesa! Gamba tesa! Ok, ok! Scresa! Gamba! Scresa! Scarica! Non è pagare! Ok, quindi ce lo abbiamo per vedere! Terzo, ma non è... Terzo, ma non è... Terzo paccala! Vai! Grazie. 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 Sei io però, non è in Dio che è pretenda, però Maurizio. Siete, otto, nove, dieci, andiamo dall'altro. Andiamo. Due e ventiquattro, perdono. Due e trentaquattro qui, Angelo. Due e trentaquattro qui. Due e trentaquattro, due e trentaquattro, due e trentaquattro. Perfetto, e questo è il passo. Farci! Eh, la luce è in me. Oh! Oh! Odio! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.